La storia continua, ma cambiamo al momento. A Griffith Park, stavolta, ci sarà uno di uno di astronomi diventanti che potranno studiare questo studio maiclissime e prestigioso osservatorio nella parte alta della città. Le condizioni meteorologiche sono favorevoli? Ma Eddie non c'è! Non lo faccio! Allora perché non va a rispondere al talento? Non lo so! Eddie? Pronto? Sono Shoney, c'è Eddie! Ciao Shoney, non c'è, non so proprio dove sia. Sai quello fra la luna nel quadro? Sì, allora? È un eclissi. Dice che la strana luna nel quadro è un eclissi. Anche quando è affugato quel nesco dello è dalla notte della donna mia. Stanotte ce ne sarà un altro. Dobbiamo trovare Eddie. Craig? Bene, ci vediamo sulla spiaggia. D'accordo, perfetto. Stanotte c'è un eclissi. Lui sarà de Vargas Point, lo so. Io vengo con te. No, no, è meglio di no. Lui potrebbe risolvere qui. Potrebbe essere una ricerca inutile. Per chi è andato. No. È passaggio. No.